come state vedendo ragazzi siamo partiti si sta facendo la barba lo zara ragazzi questa barba è un gran casino ma poi ragazzi se lo deve fare un guarda linea mi rendete conto il guarda linea del psg detto colui quello che gioca 5 10 minuti batte una certa punizione è un rigore e poi se lo fa c'è il cassino totale come a ballare hai capito pancioschi e raveroschi saluta il tuo amico guarda linea ciao pancioschi ciao che coschi ciao raveroschi comunque dai a parte le scherzi ragazzi psc come ho promesso fino a dicembre verrà le navi e però guarda linea deciso proprio ufficiale basta nero su bianco e dopo fine dicembre si può dire ripartirà giocare qualche po 10 15 20 minuti e perché no quando c'è le punizioni e rigori che coschi com'è se c'è lo zara o nel bene o nel male purga sempre tutti perché lo zeta r non ce n'è per nessuno perché purga sempre tutti o nel bene o come o male male hai capito sì o no hai capito che coschi o no carrots è un saluto da allo zara a a ma pensavate che era finito quionas iscr perché vi devo soprattutto svelare un altro anedito L'ultimo allenamento che sarà fatto quest'anno con il PSG dice che il probabile ZR, oltre che giocare i suoi famosi 10-12 minuti con le sue cosiddette punizioni e rigori, come di suo ormai è consueto, nel PSG, e si potrebbe dire che a parte questo ci sarebbe un famoso ruolo, che in caso mai, mettiamo caso perché nel calcio, bisogna dire che soprattutto, non si sa mai, c'è un ruolo che è soprattutto importante, quello del portiere, perché è difficile, ragazzi, ve lo spiego che ci andrò, però è capitato nell'ultimo allenamento, per delle serie di strane concisioni, cioè, comunque, dice che il seguente sottoscritto ZR avrebbe giocato bene, E allora, cosa è capitato in quella partita lì? Dice che, e si dice, è bustata, va messa la colbena, e sa anche il coschi, che, se in caso mai, quest'anno, in delle partite, dovesse esserci un'espulsione, che è difficile, ma perché no potrebbe essere la sua?